Un saluto a tutti i lettori di WISE, è un onore essere letto fra queste pagine. Io sono Lorenzo Haidt e vi parlerò di come funziona questa sorta di sovrastato invisibile sopra tutti gli altri stati, chiamato nazione liquida, che ci permette di viaggiare senza muoverci di casa, che ci permette di fare lavori che odiamo o che amiamo, che ci permette di guadagnare o di percepire un reddito di cittadinanza. L'importante è che espletiamo tutti la nostra funzione di bravi cittadini all'interno di questa nazione e qual è? Quando sei un cittadino perfetto all'interno di questa nazione liquida, quando sei un consumatore ricorsivo, non importa che realmente utilizzi ciò che acquisti, l'importante è che continui ad acquistare, sempre in maniera compulsiva e le mille intelligenze artificiali che sono sparse per la mia casa, di cui non posso pronunciare il nome altrimenti si attivano, ascoltano tutto quello che dico per far apparire un banner all'interno della prossima finestra sul mondo che aprirò, che è il prossimo device che utilizzerò, per farmi espletare questa funzione, ma poi uscire da questa catena smettendo di essere un turista all'interno di questa nazione e diventando cittadino. Però devi impararne le regole, devi impararne le leggi che non sono scritte, o meglio, sono leggi non scritte, visibili a tutti e che tutti noi rispettiamo, per capirle un po' meglio, per sapere come sfruttarle, spero che questa intervista ti dia qualche spunto. Un saluto da Lorenzo Haidt a tutti i lettori di Wise.